Molto acceso il dibattito in città sulle mura urbiche, c'è stato un vertice infatti nei giorni scorsi tra il sindaco Pierluigi Biondi e le associazioni e presto tutto culminerà in una conferenza di servizi. Il sindaco ha voluto incontrare i referenti delle associazioni civiche e culturali cittadine per fare un po' il punto sullo stato attuale del recupero delle mura urbiche, chiesto a più voci. All'incontro c'erano diverse associazioni, L'Ainva, Amici dei Muserchio, Club L'Aquila, Compagnia Rosso d'Aquila, Gruppo Aquilano di Azione Civica Iemonnanzi, Italia Nostra, Lega Ambiente, Lions Club Host, Nuova Acropoli, Pantarei e Rotary Club dell'Aquila. Durante l'incontro le associazioni hanno analizzato la situazione attuale dei vari tratti della cinta muraria cittadina e si sono impegnate a fornire una relazione descrittiva delle potenzialità e delle criticità che ad oggi interessano uno dei monumenti più importanti ed identitari del capoluogo di regione. Le associazioni auspicano che almeno una parte delle mura possa essere aperta al pubblico in pochi mesi, come più volte era stato richiesto, si spera entro la prossima perdonanza. Hanno chiesto allora al sindaco Biondi, che si è dimostrato molto possibilista, di indire una prossima conferenza dei servizi sulle mura, alle quali però invitare a partecipare anche la sovrintendenza al segretariato regionale Mibact, che sono attori comunque interessati. Il sindaco ha ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di voler conseguire il recupero e la valorizzazione dell'intera cinta muraria e ha aderito a questa proposta assicurando un prossimo incontro che dovrebbe esserci in tempi rapidissimi.